È stato un anno impegnativo il 2020 per l'agricoltura, che ha dovuto subire lo scossone della pandemia con le sue conseguenze. A tenere maggiormente chi ha saputo reinventarsi e le imprese agricole con vendita diretta a chilometri zero, ma settori come l'agriturismo, ad esempio, hanno subito una perdita addirittura dell'80%. Il mondo agricolo ha continuato a lavorare perché doveva garantire l'approvvigionamento di cibo al mondo del consumatore è chiaro che però alcuni settori, come per esempio la ristorazione, essendo ferma, ha avuto un risvolto anche sul mondo agricolo, ha cascata, quindi mettendo in difficoltà parecchie filiere agroalimentari. Il primo pensiero va rivolto agli agriturismi perché dobbiamo pensare che a parte quella piccola finestra estiva hanno di fatto chiuso le loro attività e non hanno potuto lavorare, e quindi si registra un calo fino all'80% del fatturato per l'impresa turistica. Ma poi a cascata, ripeto, tutte le altre filiere. Se pensiamo al vino, nonostante tutto, ha avuto una grandissima difficoltà perché chiudendo, come vi ripeto prima, il mondo della ristorazione, anche il vino resta, a parte l'export, diciamo, resta abbastanza fermo. Se pensiamo al mondo dell'allevamento, con gli allevamenti da carne, il mondo degli allevamenti da latte, anche qui purtroppo essendoci un disequilibrio totale del mercato perché pensiamo che l'unica di fatto via commerciale è quella della grande distribuzione. Anche il mondo della frutta, dell'ortofrutticolo, ha avuto una flessione anche se i prezzi sono stati soddisfacenti, ma se dobbiamo parlare del nostro territorio effettivamente ci sono stati dei problemi di produzione. Buone opportunità si prospettano intanto per i giovani che decidono di aprire un'attività agricola con un bando che consentirà l'avvio di 259 imprese in Veneto. Fortunatamente anche quest'anno si aprirà un bando per il nuovo insediamento in agricoltura quindi per tutte quelle aziende giovani che vogliono insediarsi e iniziare a lavorare nel mondo agricolo con a bando circa 10 milioni appunto per il primo insediamento ciò significa che 259 imprese potranno entrare, nuove imprese giovani potranno entrare a livello Veneto nel mondo dell'agricoltura e iniziare la loro attività agricola.